Uuuuh, dove sono e che cosa ho in mano? In mano, signori, ho un documento che dice che sono proprietario di un appartamento grazie a un'aggiudicazione fatta in asta qualche mese fa a, vi dico esattamente la cifra, 39.700 euro più box e vi dico il valore di perizia, così tanto per il valore di perizia, ragazzi, è 194.000 euro vale quei soldi, non vi sto dicendo questo, però il valore di perizia è 194.000 ora, di sicuro non vale quei 39.700 quindi questo è quello che si riesce a fare con le asti e voi direte, ok, ma se non vale quella cifra lì della perizia, quanto vale realmente? allora, vi dico una cifra indicativa, bassa ovviamente, 130.000 ah, e vi dico un'altra cosa, pure per chi non capisce certe cose eravamo soltanto in due a quell'asta, ok? che cosa